Buongiorno. Adesso mi fate saltare l'orecchio così però. Così magari non ci senti. Ma che è successo, professor? E niente, Caruso è caduto dalla sedia. Ma che state dicendo, professor? Non ho fatto niente! Oh, caro, caro, sempre tu sì, eh. Ti vuoi accomodare fuori che magari stai più comodo? Andiamo, andiamo. Combina guai. Grazie.